Giugno 2022 in Italia è allarme siccità. Tra Irpinia e Sagno ogni notte centinaia di cittadini restano senza acqua, ma qui non c'entrano i cambiamenti climatici o i consumi abnormi di chi ad esempio impunemente riempie piscine abusive. La quantità d'acqua prelevata alle sorgenti è enorme, tale da dissetare 5 milioni di persone nel mezzogiorno. La quota per le aree interne campane da sola basterebbe a servire una popolazione doppia rispetto a quella residente. Invece si preparano piani anti siccità che prevedono l'utilizzo di autobotti in caso di magra. Uno scandalo. Lo sperpero di risorsa è dovuto alle infrastrutture vecchie che disperdono in alcuni punti fino all'80% di acqua. Una vergogna, visto il contesto del paese, come lo sono le mancate prese di posizione politiche del territorio irpino. La regione ha salvato il gestore Gori con fior di quattrini garantendo Salerno e Napoli. In queste ore ancora l'ente idrico campano relaziona su misura per rinnovare a Gesesa l'affidamento del servizio nel Sagno. Alto calore resta invece a bocca asciutta. Seppure i lavori di manutenzione iniziassero oggi ci vorrebbe un lustro, almeno per ultimare gli interventi, ma ad oggi siamo soltanto alla promessa di fondi. Un miraggio nel deserto, come l'adozione di una tariffa unica regionale che porterebbe subito introiti, ma aumenterebbe il costo nelle altre province, quelle che l'acqua non devono sollevarla alle sorgenti, sostenendo pesanti costi energetici. Dal 2019 Alto calore attende 60 milioni di euro promessi in tre anni. I fondi sono finiti in bonus per l'emergenza Covid, le casse non ancora rimpinguate. Dagli enti e la regione, il solito balletto sulle responsabilità, con soluzioni affidate alla danza della pioggia. Anzi no, De Luca chiama la Puglia e chiede più acqua. Seppure alle sorgenti di Cassano raddoppiasse la portata, le pompe per sollevarla sarebbero le medesime da 50 anni e la rete che la distribuisce è uno scolapasta sempre più bucato. Ciò che manca sono i fondi. Dal PNRR l'alto calore resta fuori per colpa di gestioni passate dissolute. Si aspetta il verdetto sul fallimento o meno. Si conoscono tuttavia i tempi della giustizia in Italia. Senza un commissario o un intervento mirato continueranno a scorrere altrove milioni e milioni di euro che l'Europa stanzia per i cittadini, le reti e la depurazione al di là della burocrazia. Il tutto nel silenzio dei comitati per l'acqua bene comune, dei consiglieri regionali irpini, dei componenti irpini dell'ente idrico campano. Non una presa di posizione sul rischio, carenze per imprese e produzioni non solo per gli insopportabili disagi notturni degli abitanti. Ma in fondo il governatore ha la coscienza a posto per la grande fiducia ricevuta alle scorse elezioni dall'Irpinia, grata al punto tale da esprimere anche una candidatura dal vertice alto calore. Il punto per dirla alla Totò è un altro perché l'hai sprecata.